E' un'esperienza cinese, nel 1984 siamo tornati tutti in Italia e sono stato assegnato al vice comando della brigata corazzata a Riete a Portenone che allora era stata rinominata brigata corazzata Manin, poi dopo ha ripreso il suo nome originale. 1984-1985 è periodo di comando, finito il periodo di comando, nell'85 sono stato assegnato allo Stato Maggiore di Difesa con l'incarico di capo dell'ufficio politica militare ed è stata un'esperienza incredibilmente interessante perché l'ufficio politica militare dello Stato Maggiore di Difesa a quell'epoca si occupava, tra le altre cose, della installazione dei missili Cruis nella base di Comiso in Sicilia. Quindi abbiamo seguito come alleato della Nato questa installazione e questo mi ha addirittura valso una decorazione statunitense, sono recipient della Legion of Merit americana. Finito il periodo allo Stato Maggiore di Difesa sono stato intanto promosso generale di brigata e quindi sono andato a comandare la brigata Acqui all'Aquila degli Abruzzi. Era una città che non conoscevo, di una regione che non conoscevo e di una popolazione che non conoscevo e ho imparato a conoscere questo popolo incredibilmente bravo che sono gli abruzzesi, forte e gentile, veramente persone affidabili, persone capaci, veri amici. È stato un anno molto interessante, molto bello. Comandare una brigata vuol dire avere ancora la possibilità di essere in contatto con le truppe. abbiamo fatto delle esercitazioni in cui la brigata era impegnata non solo come brigata dell'esercito diciamo in modo convenzionale, ma era anche l'unica brigata in Italia ad avere anche il doppio ruolo di brigata dell'esercito e di brigata di protezione civile. Tant'è vero che alla brigata erano anche assegnate delle unità navali, delle unità della Marina Militare e delle unità dell'Aeronautico Militare. Io nel mio stato maggiore di brigata avevo anche degli ufficiali d'Aeronautica e degli ufficiali di Marina. Sono stato anche imbarcato su una nave San Giorgio, su una nave San Marco, dove mi avvalevo della cabina a Miragli, ho potuto volare sugli elicotteri degli stormi SAR e degli stormi di soccorso aereo come componente di soccorso aereo della brigata. Insomma, veramente una grande esperienza. Finita l'esperienza del comando di brigata, ho stato richiamato a Roma, nel frattempo promosso generale di divisione, quindi come capo del terzo reparto dell'ufficio del segretario generale della difesa. Il terzo reparto dell'ufficio del segretariato generale era quello che si interessava di cooperazione internazionale nel settore degli equipaggiamenti e degli armamenti. In pratica era quello che, in contatto anche con la parte industriale che si interessava appunto di produzione di sistemi d'arme e di armamenti in Italia e anche all'estero, aveva la possibilità poi di cooperare con uffici simili degli altri paesi della Nato per riuscire a fare programmi combinati che consentissero di risparmiare sulle spese di ricerca e sviluppo cercando di arrivare a programmi congiunti che poi fossero adottati da più forze armate di più paesi dell'Alleanza. Quindi è stata grande esperienza, grandi viaggi. Ho viaggiato un po' in tutto il mondo anche perché poi il periodo era favorevole perché nel frattempo il mondo sovietico era crollato quindi molti paesi che erano stati sotto l'influenza sovietica anelavano ad avere rapporti con l'Occidente tant'è vero che poi alcuni sono entrati nell'Unione Europea alcuni della Nato addirittura. All'epoca ci invitavano in Polonia, in l'allora Cecoslovacchia poi Repubblica Ceca, in Ungheria, in Bulgaria per vedere quali possibilità ci fossero di fare programmi di cooperazione negli armamenti che consentissero a questi paesi progressivamente di disfarsi dell'armamento di tipo sovietico di tipo russo e di adottare piano piano armamenti di tipo occidentale proprio in previsione del fatto che prima o poi sarebbero entrati nell'orbita della difesa occidentale cosa che poi è accaduta. Quindi anche questo è stata un'esperienza veramente interessante. ho finito il periodo all'ufficio del segretario generale e come generale di divisione sono stato assegnato a fare un periodo di comando presso il quinto corpo d'armata italiano che era basato nel nord-est dell'Italia era un periodo di trasformazione dell'esercito dovuto anche al fatto che appunto essendo finita la minaccia ai confini orientali tutto l'esercito si stava ristrutturando, ridislocando eccetera. Io sono andato lì con l'incarico di vicecomandante del corpo d'armata e ho visto in pratica questo corpo d'armata da una forza di circa 53.000 uomini calare piano piano a 20.000 perché molte unità sono state appunto ridislocate nel centro, nel sud dell'Italia, addirittura in Sicilia. La brigata Osta, che come dice il nome era una volta nel nord è invece stata dislocata a Palermo e così via la brigata Bersaglieri è stata ridislocata in Campania e così via quindi anche lì è stato un periodo abbastanza impegnativo perché poi io come vicecomandante avevo anche l'incarico di ispezionare e visitare molto spesso i reparti alcuni dei quali specie i quadri e i quadri cioè gli ufficiali e i sotto ufficiali che erano ormai da anni abituati a vivere in Friuli nel Veneto erano sgomenti all'idea di dover essere trasferiti di punto in bianco nel centro e nel sud Italia e io li tranquillizzavo dicendo guardate, non abbiate paura perché molto probabilmente quando il reparto sarà trasferito nel centro o nel sud partirà il colonnello comandante, partirà la bandiera ma i quadri con ogni probabilità rimarranno qui in zona saranno reimpiegati qui nel Veneto perché poi così è stato in pratica ossia questi reparti sono stati portati nel sud nel centro ma sono stati ricostituiti poi con quadri e anche truppa di origine locale, campana e siciliana e comunque del centro sud finito il periodo di comando del quinto corpo d'armata sono stato richiamato a Roma perché nel frattempo proprio in considerazione di tutti i cambiamenti in atto nelle forze armate il capo di stato maggiore della difesa che era l'ammiraglio Venturoni e che era stato anche il mio caporeparto quando facevo il capo dell'ufficio politica militare mi chiamò per darmi un incarico molto interessante che era l'incarico di costituire da zero una scuola di stato maggiore un istituto superiore di stato maggiore che insegnasse a ufficiali di tutte e tre le forze armate quindi dell'esercito marino aeronautico a operare e collaborare su temi di natura internazionale cioè in pratica una scuola superiore di stato maggiore che insegnasse attività di stato maggiore congiunte a ufficiali di tutte e tre le forze armate a cui poi si sono aggiunti ufficiali dei carabinieri della finanza in un secondo momento compito molto difficile perché tra l'altro non avevo una sede non avevo un programma e non avevo la minima idea di come si impiantasse da zero un istituto superiore a livello masters e quindi sono andato alla Bocconi sono andato alla Lewis mi sono fatto spiegare poi grazie alla lungimiranza del generale Carlo Jean ho avuto la possibilità di usare di avvalermi di infrastrutture dislocate nella Palazzo Salviati dove era di sede il centro alti studi per la difesa il CASD che si è un po' rimpicciolito mi ha lasciato una buona quantità di locali altri li abbiamo ottenuti facendo ridislocare unità e reparti che erano accasermati in quella struttura per cui nel giro di un anno ho messo su un istituto ho messo su dei programmi e ho messo su un concorso per affluire a questa scuola dove il primo corso è iniziato nel 1994 corso interforze partito con la benedizione del Ministero della Difesa è stato un primo corso sperimentale svolto con grande entusiasmo dagli ufficiali frequentatori dovevamo grazie anche alle indicazioni di Bocconi e di Lewis abbiamo installato dei sistemi che hanno abbastanza nuovi per le scuole di Stato Maggiore delle Forze Armate per la scuola di guerra di Civitavecchia per la scuola di guerra aerea di Firenze per l'istituto di guerra marittima di Livorno noi avevamo un sistema basato sulla tutorship cioè ogni gruppo di una dozzina di ufficiali interforze era guidato da un tutor che si interessava di ciascuno di loro per cercare di mantenerli nell'alveo di un apprendimento interforze poi avevamo un'autovalutazione che andava di pari passo con la valutazione fatta dagli insegnanti e dai tutor in pratica ogni frequentatore noi lo chiamavamo il nostro collaboratore ogni frequentatore ogni due settimane tre settimane si autovalutava dicendo al proprio tutor come secondo lui era il suo livello di apprendimento nelle singole materie e i livelli di apprendimento venivano confrontati con quello che il tutor aveva rilevato e ne veniva fuori una votazione che era una votazione concordata quindi avevamo eliminato il sistema che c'era il professore che valutava e l'allievo che subiva anche perché gli ufficiali che frequentavano questo corso erano ufficiali al grado di maggiore tenente colonel quindi persone che avevano una notevole esperienza della propria fratta armata non erano da trattare come ragazzini di scuola e questo ha funzionato perché poi il primo corso è stato un successo e quindi è stato dato il via al secondo poi al terzo corso al terzo corso senza così invece per quanto riguarda la mia esperienza personale che è stata enorme gigantesca per questa esperienza di fondatore e poi direttore per due anni dell'istituto io invece poi ho avuto una delusione nel settore dell'avanzamento per cui nel 96 mi sono dimesso dalle forze armate sono andati in pensione anticipatamente col grado di generale di corpo ad armata dell'ultimo giorno perché nel nostro ordinamento quando uno si dimette ma è stato già valutato idoneo al grado superiore quando va in pensione riveste il grado superiore grazie a tutti